Veni Paris 2019, siamo allo stand di Tutto Capsule, un'azienda torinese presente in Italia e in parte anche all'estero con ben 115 negozi. Siamo in compagnia di Vincenzo Pagliero, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciao Vincenzo e benvenuto su Veni TV. Ciao, piacere. Allora intanto raccontiamo che cos'è nel dettaglio Tutto Capsule. Guarda, Tutto Capsule è un'esperienza che nasce sei anni fa ormai, che oggi conta su, come hai detto bene, 115 punti vendita e che ha avuto la forza, la capacità e la costanza di provare a proporre una gamma di circa 800 diverse tipologie di prodotto che rappresentano il meglio del made in Italy che c'è oggi su tutti i sistemi e che cerca di proporre ai consumatori le migliori referenze di caffè, ma non solo di caffè perché oggi le capsule vogliono dire tanto alto, non soltanto caffè, nei sistemi più diffusi, in espresso, dolce gusto e tutti i sistemi lavazza. Quali sono le ragioni che vi hanno indotto ad essere presenti qui a Veni in Paris 2019 in qualità di espositori? Noi siamo consapevoli che purtroppo o per fortuna la necessità delle aziende di oggi è quella di andare all'estero il più possibile. Noi siamo molto forti in Italia ma siamo ancora troppo deboli fuori e crediamo che il mercato francese possa essere una buona alternativa, un buon complemento a quello che è il mercato italiano. Quindi stiamo cercando di vedere se gli interlocutori, i partner che ci sono in Francia possono raccogliere lo stesso tipo di messaggio che siamo riusciti a passare in Italia. E allora, qualora chi dall'altra parte sta guardando questa intervista e comprenda l'italiano vorreste entrare in contatto con voi per realizzare una partnership commerciale qual è l'indirizzo email a cui possono scrivere senza alcun impegno? Allora, possono visitare il nostro sito che è www.tuttocapsule.it che da oggi oltre ad essere italiano ovviamente è anche in inglese e in francese e possono scrivere a infochiocciola.tuttocapsule.it mandandoci i loro dettagli e noi li ricontatteremo il prima possibile. Grazie per la collaborazione, salutiamo chi è dall'altra parte. Grazie a te, è stato un piacere. E noi continuiamo per mostrare altre primizie presenti qui all'esposizione internazionale di Parigi del Vending 2019. Vending Paris.